Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, benvenuti nella nostra diretta quotidiana, un caro saluto agli amici e alle amiche, ai nemici e alle nemiche che si collegano con noi per questa diretta quotidiana che come sempre si chiama il parresiasta. Il parresiasta nella Grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere, come faceva Diogene il cinico, senza curarsi degli asimmetrici rapporti di forza. La nostra diretta quotidiana va in onda su tutti i miei canali social, Youtube e Twitter, Instagram e Facebook, TikTok e Telegram. Abbiamo creato anche il canale Whatsapp, lo potete trovare digitando www.filosofico.net slash Whatsapp. Grazie anche ai tantissimi che stanno leggendo i miei libri, come ad esempio Demofobia, sulla finta alternanza di destra e sinistra nell'ordine neoliberale. O come il mio ultimo libro, eccolo qua, Sinistras contro il neoliberismo progressista, una critica radicale della Sinistras Fuxier-Cobaleno. Grazie davvero a chi lo sta leggendo e a chi lo sta facendo leggere. Sono molte le novità da commentare, anche oggi partirei da una novità che viene discussa su tutti i principali siti di informazione, quindi è una notizia che gode di una certa risonanza da parte del circo mediatico e del clero giornalistico, Netanyahu sta calando nei consensi, proprio così. Secondo quanto riportano i giornali più venduti, tra cui anche La Repubblica, rotocalco turbo mondialista, voce del padronato cosmopolitico, anche, la Repubblica lo dice, Netanyahu sta perdendo consensi. Ok erat in votis, direbbe il poeta, questo era quanto speravamo. In effetti le politiche aggressive e imperialistiche di Netanyahu a Gaza non possono che essere oggetto di condanna, da quanti ancora posseggano il logos. Perfino Joe Biden, l'arcobalenico e vegliardo presidente della civiltà del dollaro, come sapete, nei giorni scorsi ha detto che Netanyahu sta esagerando, sta danneggiando l'immagine stessa di Israele, quindi perfino Biden in qualche modo ha preso un po' le distanze da Netanyahu e a quanto pare anche il popolo di Israele comincia a mettere in discussione l'operato di Netanyahu. E ne approfittiamo quindi per ribadire che l'oggetto della nostra critica non sono mai i popoli di Gaza o di Israele, della Russia o degli Stati Uniti, ma i governi. Noi critichiamo il governo di Netanyahu, non abbiamo nulla contro i popoli che anzi rispettiamo sempre, quello ucraino come quello russo, quello di Israele come quello di Gaza, quello cinese come quello americano. Ecco, il governo di Israele però sta agendo in maniera pessima, soprattutto in relazione a Gaza, come sapete a Gaza è in atto qualcosa di vergognoso e la Cina ha parlato giustamente di una vergogna per la civiltà in relazione a quanto sta accadendo a Gaza e a quanto pare i consensi per Netanyahu iniziano a risentirne, meglio tardi che mai. Un'altra notizia che vado celermente a commentare riguarda il fatto che è stata approvata la norma per le case green, proprio così è stata approvata quindi entro il 2050 l'obiettivo è emissioni zero. Voi direte si tutela l'ambiente, benissimo, io sospetto che non sia così. Premesso che io sono un difensore dell'ambiente e ritengo che il solo modo per difendere l'ambiente sia uscire dal modello capitalistico, che è quello che devasta l'ambiente. Non ritengo che la green economy sia una soluzione, il green della green economy è il verde dei dollari, non certo dell'ambiente. La green economy mette a profitto anche i danni ambientali prodotti dal sistema global capitalistico e a tal riguardo sottolineo come con la vicenda dell'efficientamento e delle emissioni zero in sostanza non vadano a cambiare molto per quel che riguarda l'ambiente, per difendere l'ambiente bisognerebbe bloccare la grande produzione multinazionale capitalistica, ebbene si va però a mettere a rischio il possesso stesso delle case da parte dei cittadini che in difficoltà per i costi alti dell'opera di efficientamento potrebbero in futuro essere costretti a privarsi delle loro case. Avanzo questa ipotesi, è una mia interpretazione, lo dico subito, però ho il sospetto che molti cittadini si vedranno portare via la casa da banche e agenti del capitale, ipotesi mia. D'altro canto, come ho scritto in demofobia, eccolo qua, molti pensavano che sarebbero stati bolshevichi a portare via le case ai cittadini e invece sono le banche capitalistiche, me ne ero occupato in demofobia, vedete bene che la situazione sarebbe anche comica se solo non fosse ai noi tragica e lo sottolineiamo con preoccupazione, quindi passa la legge sulle case, le green, la green house, la casa verde, il nuovo capitalismo che si tinteggia di verde per creare fonti rinnovabili di business, ripeto il verde non è dell'ambiente ma è del dollaro, questo è il green della green economy. Poi c'è un'altra notizia che riguarda Elie Schlein, mi desta sempre un sorriso parlare di Elie Schlein perché rappresenta al meglio il paradigma della sinistra sceneo liberale e liberal progressista, atlantista e dimentica dei lavoratori e di Marx. Cosa ha detto Elie Schlein? Dopo aver indicato Giorgia Meloni come il proprio nemico, ha detto sconfiggeremo Giorgia Meloni. Ora, premesso che io non ho alcun interesse a difendere Giorgia Meloni e il suo governo, che reputo anzi un governo pessimo, piegato all'Unione Europea e a Washington, al capitale e agli interessi delle classi dominanti al loro dominio, quindi sono massimamente critico rispetto al governo di Giorgia Meloni, ci ho detto che se mi volgo dall'altra parte e guardo Elie Schlein mi metto le mani nei capelli, da che il discorso di Elie Schlein è di una povertà politica e culturale imbarazzante, mi permetto di dire. È il paradigma perfetto della sinistra scena, come l'ho criticata nel mio libro. Elie Schlein, mentre i salari sono a rischio, mentre l'imperialismo dilaga, mentre gli agricoltori giustamente protestano, non ha altro a cui pensare se non la legalizzazione della cannabis. Ora, veramente ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, ne è vero? Credo che possiate convenire con me. Quindi chi pensa che la soluzione sia Elie Schlein o sia Giorgia Meloni non ha capito nulla, da che, come cercavo di dire in demofobia, destrasch e sinistrasch sono le due ali dell'aquila neoliberale, sono le due articolazioni del partito unico del turbocapitalismo finanziario e sans frontiere, che vinca la destra bluet neoliberale di Meloni o la sinistrasch fucsia neoliberale di Elie Schlein, vince sempre e comunque il partito unico del capitale con la sua omogeneità bipolare, come la chiamava il mio maestro Costanzo Preve. Questo è il punto su cui mi permetto di richiamare garbatamente la vostra attenzione. Quindi fa sorridere la frase di Elie Schlein, sconfiggeremo Giorgia Meloni. In realtà Elie Schlein è stata abilissima nello sconfiggere quel poco di non allineato che rimaneva nella sinistra, che ormai è diventata sinistrasch come la destra è diventata destrasch. Ovviamente chi ascolta queste cose dirà se è di destra che io sono comunista e se è di sinistra che io sono fascista. Questo è il presupposto dell'equivoco, come lo chiamava Martin Heidegger. C'è una domanda che voglio però sollevare insieme a voi, ma la Russia potrebbe attaccare l'Europa? In tanti se lo domandano i rotocalchi nazionali e i marca atlantista insistono sul fatto che la Russia potrebbe attaccare l'Europa. Ma perché mai la Russia dovrebbe attaccare l'Europa? Punto di domanda. Avete prove a riguardo? Fornitecele, perché io non riesco a capire su che basi mai Putin dovrebbe attaccare l'Europa. Putin ha attaccato l'Ucraina perché la Nato dagli anni 90 si è allargata verso Oriente, occupando gli spazi che un tempo erano del patto di Varsavia o addirittura dell'Unione Sovietica. Questo è il motivo di questa orrenda guerra d'Ucraina. Perché mai Putin dovrebbe attaccare l'Europa? Vi risulta mai nella storia moderna che la Russia abbia fatto campagne in Europa? No, semmai è stata l'Europa, la Francia, l'Italia a fare campagne di Russia, peraltro sempre finite molto male. Mi permetto anche di aggiungere con una piccolissima notazione storica. Io ho il sospetto, ipotesi mia, che continuino a dirci che la Russia vuole invadere l'Europa soltanto per creare il panico nell'opinione pubblica e prepararla a ciò che accetti di buon grado una possibile guerra preventiva di Washington contro Mosca. Questa è la mia interpretazione. Se ciò dovesse accadere sarebbe un dramma, va da sé, sa va san dir. Vedremo quali saranno gli sviluppi, intanto sempre occhi bene aperti, come dice il protagonista di Sostiene Pereira di Tabucchi, occhi bene aperti sempre. A questo riguardo vi ricordo anche, già che ci sono i prossimi appuntamenti in presenza, ci vediamo domani 13 marzo a Udine con Cosimo Massaro, Paolo Borgognone e Marco Belviso, ci vediamo il 14 di marzo a Orsago in provincia di Treviso per una serata sul tema della speranza. Il 15 marzo a Vicenza per una giornata sul tema merito e filosofia, poi il 17 marzo con Marcello Veneziani a San Severino Marche per parlare di destras e sinistras, quindi della demofobia e dell'alternanza senza alternativa. Ci vediamo poi il 19 marzo a Limena, provincia di Padova, per una bella serata sulla memoria, cosa vuol dire ricordare, cosa ricordiamo e cosa dimentichiamo anche nella storia. Poi ci vediamo il 21 marzo a Roma per una giornata su Orwell, ci vediamo il 22 marzo a Recanati, provincia di Macerata, per una serata ancora su demofobia e su sinistras e poi ci vediamo ancora il 26 di marzo a Parma per una serata insieme sul transumanesimo con tanto di cena a seguire. Se anche voi volete organizzare un evento con il sottoscritto per presentare un mio libro come demofobia o come sinistras o per una cena platonica o per un dibattito potete scrivermi, basta andare su www.filosofico.net alla voce contatti www.filosofico.net. Grazie anche a chi ci supporta, liberi di sapere e di far sapere il nostro motto, se desiderate supportare e lo auspichiamo il nostro pugnace gruppo di lavoro potete farlo al costo di un caffè al mese abbonandovi anche ora alla nostra pagina YouTube, alla nostra pagina Instagram o alla nostra pagina Facebook. Al costo di un caffè al mese vi abbonateci, supportate e avrete anche dei contenuti riservati oppure potete fare libere donazioni con bonifico o con Paypal da www.filosofico.net slash sosteneteci, ripeto www.filosofico.net slash sosteneteci. Grazie di cuore a tutti, seguiteci su tutti i nostri social e visitate anche il nostro sito www.filosofico.net, c'è anche il blog con tutti gli aggiornamenti quotidiani. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro.